Ciao, oggi vorrei parlare con voi di operazioni con le frazioni. Allora, se il video sarà un po' lungo, potete pensare di vederlo a pezzi. Io tratterò le operazioni in quest'ordine. Prima addizione e sottrazione, poi moltiplicazione, poi divisione e proprio alla fine la potenza. Vedete voi, se è troppo tutto insieme, lo guardate in giornate diverse o in base agli esercizi che avete. Allora, iniziamo con addizione e sottrazione. Primo caso, sono due i casi. Il primo è facile, cioè le frazioni hanno lo stesso denominatore, cioè il numero qui sotto, che è il numero che ci indica in quante parti è diviso l'unità. un quinto più due quinti. Quindi avete la solita pizza divisa in cinque parti, ne prendete prima una fetta, poi due fette, in totale avrete preso tre fette su cinque. Quindi vedete, in questo caso è molto facile, non cambiate il denominatore, visto che è uguale, tenetevelo così com'è e sommate sopra. O, se ci fosse una sottrazione, sottraete. O come in questo caso, ecco, 13 ottavi meno 7 ottavi. Quindi tengo il mio denominatore e sopra faccio un bel 13 meno 7. Ah, giusto, quando arrivate in questo caso, ad esempio qui ottenete 6 ottavi, controllate sempre i risultati. Perché? Perché è possibile che il vostro libro di testo non vi dia questo risultato, ma ve ne dia un altro. Perché? Perché se voi vedete questi due numeri, 6 ottavi, vedete che entrambi possono essere divisi per uno stesso numero, cioè semplificati. Posso dividere per 2 il 6 e posso dividere per 2 anche l'8. Allora, lo faccio e quello che ottengo sarà un bel 6 diviso 2 è 3 e 8 diviso 2 è 4. 3 quarti. E effettivamente, se anche ci provate con la calcolatrice, 6 ottavi, 6 diviso 8, e 3 quarti, 3 diviso 4, hanno lo stesso valore. Sono frazioni equivalenti e quel 3 quarti è quello che vi darà la soluzione del libro, che troverete come soluzione del libro. Quindi controllate sempre il risultato finale. Adesso guardiamo il caso, secondo me, più difficile, in generale, delle operazioni con le frazioni, che è questo. Siamo sempre in addizione e sottrazione, ma questa volta il denominatore è diverso. Allora, in questo caso voi avete un quarto di pizza, quindi un quarto, e poi volete aggiungerne 3 mezzi. Quindi c'è una pizza divisa a metà, ne prendete 3 parti, oppure è difficile. Allora, è più complicato anche da immaginare. Allora, in questo caso dovreste utilizzare quello che viene chiamato MCM, minimo comune multiplo, e se vi ricapiterà di studiarlo, ok, ma in realtà c'è un modo anche un pochino più rapido per calcolarlo, io vi do questo. Prima cosa, trovate il denominatore più grande, che quindi è un bel 4, giusto? In questo caso, tra 4 e 2. Cosa fate? Controllate se questo è divisibile per tutti gli altri denominatori. In questo caso avete solo questo. Cioè, io posso fare 4 diviso 2, mi viene un bel numero naturale, pulito, sì, sì, si può fare. Allora, in questo caso dovete trasformare tutte le frazioni allo stesso denominatore, a 4 in questo caso. Così. quindi voi avrete in questa prima frazione, beh, nulla cambia perché 4 era prima, 4 è adesso, per cui qua potete già mettere un bell'uno. Ma cosa succede in questa? Succede che quello che prima era fratto 2, adesso deve diventare fratto 4. come si fa? 4 diviso 2 per 3. 4 diviso 2, 2 per 3, 6. Allora, se voi guardate, non avete più 3 mezzi, ma avete 6 quarti. queste frazioni sono equivalenti. Quindi, quello che avete fatto è, in fondo, moltiplicare per 2. Comunque l'avete cambiata in modo tale che avesse un denominatore 4. Se voi, di nuovo, volete fare una prova, 3 diviso 2 fa 1,5 e 6 diviso 4 fa 1,5. Quindi la frazione ha assolutamente lo stesso valore. L'avete solo cambiata. Ok? A questo punto vi ritrovate, niente, con una bella frazione, con un denominatore 4 e sopra ho fatto un bel 1 più 6. 7. Ok? Vediamo un altro caso, come questo. Qua c'è una sottrazione, denominatori diversi. Come prima, trovo il denominatore più grande, che è sempre questo 4. Posso fare 4 diviso gli altri denominatori? Cioè, 4 diviso 3? No. Perché non viene un bel numero naturale. Allora, in questo caso, non devo trovare, cioè, anzi, devo trovare un denominatore che vada bene per tutti e due e quindi trasformare tutte e due queste frazioni. Come si fa? Il mio consiglio è questo. Prendete il più grande e visto che al primo giro non vi è andata bene, fate la sua tabellina in pratica. Quindi, il 4 non andava, provate con 4 per 2, 8. Se non va bene, fate 4 per 3, 12. Se non va bene ancora, 4 per 4, 16. Ok? Proviamo. Allora, il 4 non andava bene. 4 per 2, 8. Allora, 8 diviso 4, beh, certo. 8 diviso 3? No, non funziona. Quindi vado avanti. Allora, 4 non va bene. 4 per 2, 8, non va bene. 4 per 3, 12. 12 va bene? Sì, 12 diviso 4 si può fare, 12 diviso 3 si può fare, vuol dire che avete trovato il denominatore che va bene per tutti. A questo punto dovete trasformare una frazione e l'altra frazione in dodicesimi, come abbiamo fatto prima. Quindi, 12 diviso 4 per 3, 12 diviso 4, 3 per 3, 9. meno, e adesso lo fate anche con l'altra frazione, 12 diviso 3 per 1. 12 diviso 3, 4, per 1, 4. Ecco. Per cui otterrete una frazione così, in dodicesimi, 9 meno 4, 5. Ok? 5 dodicesimi. Controllate, 5 e 12, non si semplificano, questo sarà il risultato. Ok? Altro caso, vabbè, vediamolo, qua avete addizione, sottrazione, vedete che possono stare assolutamente insieme, denominatori tutti diversi, prendiamo il più grande, il 10, e controlliamo se si divide per gli altri, tutti gli altri. Quindi, 10 diviso 5, sì, 10 diviso 4, no, non va bene. Per cui, questo 10 non va bene. Dovremo trovare, moltiplicando per 2, per 3, per 4, insomma, la sua tabellina, il primo che va bene per tutti. Quindi, 10 non va bene. 10 per 2, 20. 20, 20 diviso 5, sì, 20 diviso 4, anche, per cui, avrete, vediamo se siamo fortunati, un bel 20, qua sotto, giusto? cosa succede sopra? Quello che abbiamo fatto prima, quindi, 20 diviso 4, per 3, allora, 20 diviso 4, 5, per 3, 15. Ok. Più, la seconda, 20 diviso 5, per 1, 20 diviso 5, 4, per 1, 4. Ok? Meno, 20 diviso 10, 2, per 3, 6. Ok? Ecco, questo è quello che dovete fare. E allora, niente, finiamo di calcolare. 15 più 4, 19, meno 6, 13, sempre, 20. Ok? 13 ventesimi, controllate sempre, non si dividono, non si semplificano, questo sarà il vostro risultato. Ok? Andiamo avanti. Eccola qua, senza calcolarla, volevo solo farvi vedere cosa capita quando avete, oltre alle frazioni, anche un numero naturale. qui avete 2 più 6 settimi, più 2 terzi, insomma, 10 ventunesi. Ok? L'unica cosa che dovete ricordarvi è questa, è che anche se un numero, voi lo vedete, naturale, in realtà può essere espresso come una frazione. Come 2, fatto 1, perché in fondo 2 diviso 1 fa 2, giusto? Quindi, quando vi capita, ad esempio un esercizio come questo, voi mettete sempre un bel diviso 1, voi ve lo scrivete, ecco, e siete a posto. E così, poi andate avanti e fate la stessa cosa. Prendo il denominatore più grande, controllo che si divida per tutti, tanto vedete che questo denominatore diviso 1 non cambia mai niente, quindi non vi dà problemi. Ok? Quindi, quando avete numeri naturali, ricordatevi che sono fratto 1. Ok?